Bella a tutti! Oggi siamo nel terzo episodio, il quarto, il terzo di Fun Game Brutti. Oggi non siamo su Battlefield, ma siamo su un altro gioco, il Fun Night at Rapids. Cioè, in pratica, ecco perché Fun Night at Rapids. Sono i Rabbids. Sono i Rabbids. Cioè, sono loro. E' bello che è fuori un gioco fatto bene con i minuti. Cioè, ora ci rendiamo conto. Oh, ma sta qua il signor Rabbids. Questo caro Rabbids sta qui. Ma io lo vedo mentre sicuro. Però quando lo guardo si ferma. Ma che sei? SCP-173. E' un po' difficile. Sono un po' difficile. Oh, dove sei, Rabbids? Rabbids. Abbiamo qua fuori. Oddio. Ragazzi, ho trebbiddo qua fuori. Hai giusto? Oddio, titolo clickbait. Ho il titolo clickbait per il video. Non c'è fosse una buona cosa. qua. Vediamo quando questo ne va. Dov'è? 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 Qui non c'è. cambia? темbili con più, Seattle. Non c'è. Che cosa pije che raccoglie va? a vedere la prima cosa. Non vaIX fare. È anche BISB-173. Che c'è il nuovoame. la batteria dai non del tuo ultimo non c'è la batteria la batteria della maggior parte no perchè ti chiudi luce tu ti devi chiudere guarda è un Rebiz è un Rebiz guarda è un Rebiz questo è il senso guarda quanti titoli si sono aperti in base a questa semelitudine che l'ho fatto ah ma sta ancora no lei si deve essere un Rebiz il Rebiz il Rebiz il Rebiz il Rebiz il Rebiz da dove da dove da dove da dove e poi quanto ho fatto male no ma che è stata dalle notte 1 dalla notte 1 quest'atta vediamo impazziti non ci sono salvataggi su sto gioco vabbè vabbè tanto io il video il video ai 10 minuti lo devo fare attivare vorrei ringraziare il tuo perchè io il video lo devo fare attivare ai 10 minuti se non ci stanno i salvataggi 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ma noi dove siamo ma sotto chi era quello il Rebiz il Rebiz il Rebiz il Rebiz il Rebiz ah ma sta qua vedo le orecchie poi questo è Marco quindi dovrebbe rappresentare Freddy perchè è un coniglio scusate è Freddy è un orso scrivetemi se qualcuno qua qualche qualche youtuber anche lui qualche mio iscritto anche lui se c'è se c'ho qualche iscrittore youtube anche lui e c'ha c'ha un c di fnaf e quello e quello ci è freddolo e quello ci è freddolo e quello ci è freddolo diteci a quello che ha fatto il gioco che non siete basta che lo scrivete che non siete un coniglio ma questo è il nostro però la batteria sta infelvissima meglio è il mio 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 guarda se non mi spunta da uno sono in questi due lati era la? ma lui dov'è? è la scultura che scp mi giro e lui si muove guarda 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 il ninja è tornato guarda ok però adesso non devo capire il ragno dov'è il ragno? qui si sta muovendo qui si sta muovendo qui si sta muovendo non funziona i tasti ok non funziona i tasti non funziona i tasti non funziona i tasti stai muovendo stai muovendo stai muovendo c'è ragazzi sta quello fuori e non funziona i tasti mi fa scoperto ma non mi fai funzionare i tasti ma io provo a vedere qual è il jumpscare di rabid e non per avere una scusa per morire così posso partire il video eh? l'ha succesa? vuoi fare la battuta le piccate in modo da spintarmi dicendo lo faccio dimagrire che succede amico però no perchè non voglio farmi copyrightare da Pax Bunny quale luce mi funziona quindi? o perchè aveva la batteria scarica che però si scarica velocemente cioè per non far scaricare la batteria dove c'è? oh rabid 273 dove c'è? no quello non è niente quello è un vaso ma dove stai scp? guarda non ci posso fare niente ah ma stai qua sta qua ok io faccio così dovrei vederlo guarda che cosa succede quando sta già da te quanto fatto male oh guardate che coincidenza il video è arrivato ai 10 minuti e quindi per questo anche per questo anche questo episodio dei fan game di Five Nights at Freddy's è completato intanto questa auto mi faccio un altro minuto così la monetizzazione arriva anche se non me li monetizzano i video perchè perchè e vabbè stiamo facciamo arrivare il video ai 13 comunque facciamo l'outro allora quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like e cliccate sul like su no ho cliccato sul tasto di giocare vabbè farò scaricare la batteria io ho un super efficace per far scaricare la batteria scaricare 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 una battita in cui devo far scaricare diventare il leghi fnaf cioè veramente però è un gioco fatto bene alle telecamere si cioè fatto bene dire tanto però dire che è un gioco fatto bene dire tanto ok c'è la pausa cosa kitty vuole no thanks cosa vuoi dalla mia vita va bene quindi lasciate un mi piace iscrivetevi cliccate sul tasto di iscrivetevi no lasciate un commento no lasciate un canale iscrivetevi al mi piace e mettete un commento e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao